Adesso che parte il bello, adesso che parte la musica... No, non siamo arrabbiati assolutamente, cioè siamo solo tanto stanchi. Siamo tanto stanchi ma siamo anche tanto felici di com'è andata, di tutta l'esperienza che abbiamo fatto e del percorso che abbiamo fatto, tornassimo indietro e rifaremo tutto uguale. Ovvio che no, ovviamente no, anzi adesso che parte il bello, adesso che parte la musica... Grazie Emanuele, ti fa piacere che ti sia piaciuta l'esibizione di ieri. Abbiamo lasciato il palco di X Factor col botto, ci stava. Troppe Ali amiamo ragazzi, dovete capire che noi amiamo qui ragazzi alla follia, sono veramente i nostri fratelli. Diciamo che potrete sentire sicuramente una cover fortissima degli Oasis ai nostri concerti, di sicuro in scaletta ci sarà. Grazie mille innanzitutto Eli, la cosa più bella che ci portiamo da questo X Factor a casa è sicuramente le amicizie che abbiamo fatto insieme a tutti i ragazzi del loft e i concorrenti. Cioè siamo una grande famiglia oramai, non puoi ticare per uno e non per l'altro. Ringraziamo Valentina, è un gioco e quindi noi abbiamo giocato ed è andata così. Abbiamo giocato e nei giochi si vince, si perde. Non abbiamo perso secondo me, assolutamente. Noi siamo contenti. Penso a Move On Up di Curtis Mayfield. A noi ringraziamo veramente tutti quanti per il supporto, tutto il pubblico da casa, è stata veramente un'esperienza incredibile. Tornassimo indietro la rifaremmo da capo, assolutamente. Adesso ci aspetta un bel tour sicuramente, tante date in giro e tanta musica, quindi stay tuned. E vi aspettiamo la, with the fate. Ci vediamo ai nostri live. With the fate, man. With the fate, man.